Salve a tutti, un caro saluto, salve a tutti di nuovo, un caro saluto da Francesco Samani. Oggi vedremo una simulazione per prepararsi al concorso ordinario, prove create da Francesco Samani. Prima di iniziare, ecco, giusto due parole. Non siete tantissimi, sono felice che siete sempre di più. Non riesco a rispondervi, diciamo, singolarmente. Mi dispiace, vi chiedo scusa. Per i gruppi ci stiamo organizzando. Se trovate i gruppi specifici, ad esempio qualcuno mi scrive, il gruppo A028 è pieno. Cominciate, potete entrare anche nei gruppi generici, Francesco Samani o Francesco Samani STEM o F.S. E poi da lì vi potete organizzare per creare questi gruppi studio. Questi gruppi studio che poi sono gestiti da voi, dalle persone insomma che decidono di prendersi l'impegno. Quindi molti vedrete che come amministratore non ci sono solo io, ma essenzialmente ci siete voi. Quindi poi essenzialmente avete la possibilità di trovarvi, di collaborare, di cooperare, di aiutarvi l'un con l'altro. Bene, iniziamo subito con questa simulazione. Allora, la prima domanda è quali tra i seguenti è un indirizzo IP. Quindi 06, 40, 19, 206, 64, 200. In realtà è importante anche il punto. 64, 200, 100, 192, 168, 1, 1, 1, 199, 199, 14. Allora, la risposta giusta è la C, 192, 168, 1, 1. In realtà ogni computer che si connette in una internet e quindi anche in internet è individuabile ogni computer attraverso il cosiddetto indirizzo IP. Gli viene assegnato l'indirizzo IP. Adesso è costituito da una serie di quattro numeri compresi tra 0, mettiamoci la x va, 255. Quindi sarà del tipo x.x.x.x. Ok, ognuno di questi numeri deve essere compreso tra 0 e 255. Vediamo il primo numero 192, 168, 1, 1. Sono quattro numeri separati da un punto. E quindi questo è un esempio di indirizzo IP. Nella realtà un numero di questo tipo non individua un computer connesso ad internet ma serve comunque a rendere l'idea di come sia composto un indirizzo IP. Ok, andiamo al test successivo. Sappiate che ne avrete 5 per validare, insomma, per verificare le vostre competenze digitali. Molte domande verteranno su Excel, anche su quello che usate comunemente. Allora, quello che si usa quasi tutti i giorni è l'URL. Qual è l'acronimo di URL? Uniti raggiungeremo Livorno, Uniform Random Locator, Uniform Resource Locator, Unione Random Localizzata. Ricordate che l'accesso a internet è garantito grazie all'URL. Quindi un indirizzo costituito da parole o più propriamente da una sequenza di caratteri. E URL, anche qui la risposta corretta è la C, sta per Uniform Resource Locator. È pratico da gestire e soprattutto dal punto di vista mnemonico individua una risorsa presente su computer agente da web server. Poi accade anche che la parola URL venga sostituita dalla parola indirizzo web. E anche qui ci potrebbe scappare una domandina. Cos'è un indirizzo web? Di che cosa si tratta? Da che cosa è composto? Solitamente è composto da tre parole separate da un punto. Allora, in particolare il www è una convenzione usata per indicare che si tratta di un URL e sta per World Wide Web. Ci sono anche dei casi in cui www potrebbe essere non utilizzato, ma poco ci interessa, sono casi rari. Poi la seconda parte, che in questo caso è un giornale online, individua il dominio. Esso è costituito da una parola che di solito, diciamo, suggerisce il contenuto della pagina. Ad esempio, sarà il sito della Repubblica online. La parte finale dell'URL, quindi il nostro IT, è una sigla che individua la nazione. IT sta per Italia. Se è .de, sarà Germania. Se sarà .ch, sarà Svizzera. Se sarà .gov, sarà un ente governativo statunitense. Un sito commerciale sarà .com, e così via. Ok, passiamo, la vede che sono tanti, passiamo ad Excel. Ovviamente abbiamo anche poi, come state vedendo, la possibilità di non soffermarci, essendo un video non ci soffermiamo solo alla rispostina giusta, ma poi andiamo verticalmente anche ad analizzare in maniera un po' più ampia tutto quello che gira attorno all'oggetto di studio. Così studiamo, ripassiamo, ci alleniamo e vediamo quanto anche siamo preparati. Benissimo. Cosa indica in Excel l'errore? Cancelletto div slash zero punto esclamativo. Formula sbagliata. Formato cell errato. Dato non disponibile, si è inserita la divisione per zero in una formula. Allora, la risposta corretta è questa qui. Magari per quelli che la sapevano, ok, qualcuno ci sarebbe potuto arrivare per questo zero qui presente. Attenzione che lo zero e lo maiuscolo sono caratteri che a volte difficilmente si distinguono. Allora, vediamo ancora un altro tipo d'errore. Quattro cancelletti di seguito. In Excel segnala uno spazio insufficiente in una colonna, è un valore numerico troppo grande, non è un codice errore, è stata eliminata una colonna per errore, per sbaglio. Segnala uno spazio insufficiente in una colonna. Questo messaggio non è un problema sulla formula, a meno che non ci sia un'operazione tra date. Il simbolo di ormai cancelletto o hashtag segnala uno spazio insufficiente sulla colonna. A volte vi può capitare anche di vederlo quando andate a diminuire troppo lo zoom di visualizzazione. Invece può capitare anche che ci sia questa questa dicitura di codice errore quando la formula include numeri di data ora e il risultato è negativo e quindi un orario o una data negativa non è quindi rappresentabile. Bene, siamo venuti alla fine del video, se vi è piaciuto io vi ringrazio di cuore, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare commenti, troverete anche qui sotto in descrizione al video il link di whatsapp, non vi preoccupate se alcuni vi troverete pieni, ci stiamo organizzando, grazie a molti di voi che mi stanno dando una mano e niente, spero di avervi dato il mio contributo, un caro saluto da Francesco Samani.